merita business podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di giorgio minguzzi benvenuti su merita business podcast io sono giorgio minguzzi e l'episodio di oggi ci vedrà collegati con la california più precisamente con mountain view lo so che è una città che vi suona familiare vi fa venire in mente qualcosa fra un attimo vi dirò cose vi dirò anche di cosa parleremo nell'episodio di oggi prima però vorrei sempre ringraziare chi ha fatto conoscere merita business podcast ad amici parenti e colleghi oltre a tutti quelli che hanno lasciato una recensione su itunes o su una delle altre piattaforme agosto che di solito è un mese tristissimo per il traffico digitale lo sapete basta guardare le statistiche dei vostri blog o dei vostri siti ecco in agosto 2017 abbiamo battuto il nostro record ecco far conoscere il podcast ad altre persone è il miglior modo per incrementare la qualità di questo prodotto editoriale più ascolti più persone che ti guardano ti mettono più pressione mettono più pressione ovviamente a chi produce il podcast e quindi più qualità per tutti gli ascoltatori quindi grazie di questo risultato perché è un risultato che fa ben sperare per l'autunno e l'inverno che arriva in termini di ascolti e sapete fare un podcast non è esattamente sempre semplice soprattutto d'estate quando uno avrebbe anche voglia di fare altro quindi grazie perché questi risultati motivano molto chi chi comunque si impegna a far uscire ogni settimana una puntata un'altra cosa di cui volevo parlarvi è la pagina per le vostre domande da sempre merita business podcast ha una pagina che si chiama ask cioè una pagina dove potete registrare un messaggio vocale la trovate nel menu sotto la voce podcast ma potete raggiungerla anche da merita.biz barra ask a sk ancona savona chilometro ed è una pagina che non è mai stata spinta tanto perché di cose di cui parlare ce ne sono sempre molte ma credo che a qualcuno di voi che state ascoltando in questo momento possa davvero essere utile e perciò ogni tanto è bene ricordare ricordare che esiste anche questa possibilità quella di mandare un audio domanda che poi viene usata se la domanda diciamo ha uno sviluppo corposo per fare una puntata a livello di podcast proprio verrà fatto un episodio su quella domanda lì e viceversa due righe di mail se la domanda si risolve con meno ecco due righe di mail le abbiamo sempre mandati a tutti quelli che hanno inviato una domanda bene mi piace ricordare questa cosa perché proprio oggi parleremo di siti di domande e risposte oggi parliamo infatti di cuora perché cuora ha lanciato a maggio la nuova versione in lingua italiana e già dopo pochi mesi si vede una veramente una certa attività ma che cos'è cuora e come si differenzia dagli altri siti di domande e risposte che si sono già affermati nel tempo che differenza c'è tra ask.fm e tra your answer e cuora bene cuora è una piattaforma in cui gli utenti pongono delle domande e ricevono delle risposte dettagliate moderate valutate molto attentamente devo dire dall'azienda insomma le risposte banali sbrigative caffone poco rispettose ecco volgari magari non sbagliate tecnicamente ma troppo scarne ecco tutte queste qui vengono rimosse dagli amministratori insomma la cura dei contenuti è il punto di forza che fa di cuora un player davvero interessante nel panorama web di questi anni per adam d'angelo CEO e co-founder di cuora oltre a essere anche lui ex uomo facebook la differenza fra cuora e gli altri sta tutta nella qualità del prodotto su cuora viene detto che è un luogo destinato ad offrire spiegazioni e non banali risposte e già questa è una differenza sottile nel diciamo nel parlato ma molto molto concreta poi quando si va a vedere la qualità effettiva delle risposte che ci sono su cuora a wire da adam d'angelo ha raccontato anche del modello di business di questa di questa società che si basa sulle inserzioni ma non solo anche sulla possibilità offerta alle aziende di rispondere alle domande dei propri clienti o persino alle lamentele dei propri clienti attraverso questa piattaforma ora non c'è nulla da dire cuora si candida per essere un ambiente davvero interessante per sviluppare il proprio personal branding ma anche per catturare l'attenzione di persone interessanti un po su ogni mercato una piattaforma di lead generation magari su questo poi approfondiamo anche più avanti con una puntata differente perché credo che sia un argomento davvero interessante diventa quindi fondamentale capire un po meglio che opportunità si c'erano comunque dietro cuora anche per il nostro podcast e cuora da parte sua ci ha davvero avvantaggiato perché aprendo la versione in lingua italiana ha incaricato una persona madrelingua di seguire l'evoluzione del nostro mercato e della community ecco perché oggi non credo ci sia persona più qualificata di valentina tosi per accompagnarci alla scoperta di cuora per chi non conoscesse valentina tosi valentina è un'italiana nata e cresciuta in romagna e ormai l'avete capito sono entusiasta quando posso trovare dei romagnoli che si sono distinti perché nel cuore di ogni italiano c'è il campanilismo e quindi questo è un peccato che mi dovete perdonare valentina si è laureata in lingue e culture per l'impresa poi si è trasferita in spagna dove ha lavorato per un'azienda americana di software as a service curando lo sviluppo del mercato commerciale spagnolo e italiano poi sei anni fa ha deciso di inseguire il grande sogno americano è andata a san francisco e ha lavorato per google non baubau micio micio è google e ma solo recentemente si è unita al team di cuora contribuendo al lancio della piattaforma in italia e andando a ricoprire quello che oggi è il ruolo di head of community per il nostro paese bene quindi diamo subito secondo le tradizioni benvenuto a valentina valentina benvenuta su merita grazie giorgio ciao a tutti grazie grazie del tempo che ci dedichi io mi ricordo qualche anno fa c'era la posta di cioè poi in italia è arrivato ya wanser se non altro va bene domande le risposte degli utenti sono fantasiose più o meno come quelle della posta di cioè poi è arrivato adesso cuora che è simile ma a un livello qualitativo completamente diverso ci spieghi esattamente cos'è cuora e come nasce sì sì certo e allora cuore innanzitutto è un luogo diciamo dove poter condividere e accrescere la conoscenza nel mondo è una piattaforma dove ci sono domande risposte che sono in grado di connettere se vogliamo le persone che sono in possesso della conoscenza con le persone che in un determinato momento ne hanno bisogno no il motivo per cui è nato è stato perché ci siamo resi conto che c'era c'era una grossissima quantità di informazioni che sicuramente sarebbero state preziose per molte persone che erano solamente disponibili per pochi individui in che senso nel senso che molte informazioni o rimanevano diciamo imprigionate tra virgolette nella mente delle persone nelle menti delle persone oppure erano accessibili solo a dei gruppi selezionati e sebbene esistevano comunque già dei forum o delle piattaforme simili per la condivisione delle conoscenze è appena menzionato Yahoo Answer e ci siamo resi conto che i loro contenuti non erano validi la qualità era diciamo bassa e oppure per le persone non era facile accedere a queste informazioni per cui abbiamo pensato di di creare un luogo dove fosse facile per tutti mettere a disposizione al mondo il proprio sapere e Quora è nata nel 2009 Adam D'Angelo che è il CEO attuale di Quora e Charlie Civer l'hanno fondata e hanno creato appunto una start up che potesse far circolare le idee in modo migliore adesso contiamo con 200 milioni di visitatori unici mensili e appunto il nostro focus come dicevi prima e la caratteristica che ci contraddistingue dalle altre piattaforme è proprio quella di avere un'altissima qualità nei nostri contenuti e un'ottima moderazione delle informazioni che vengono rilasciate nella piattaforma. Perfetto per chi non lo sapesse ora ci sono delle domande e poi gli esperti o le persone comunque che sono registrate sulla piattaforma possono rispondere e lasciare le loro risposte che poi vengono votate dagli altri lettori che arrivano lì. Ecco hai parlato di una crescita interessante ma come si compone la base utenti di Quora e qual è la modalità con cui cresce? Sì allora come ti dicevo adesso abbiamo 200 milioni di visitatori unici mensili pensa che nel 2016 ne avevamo 100 milioni quindi siamo cresciuti tremendamente gli esperti sono esperti in tutti i campi cioè parliamo di esperti che raccontano e diciamo condividono le loro conoscenze su materie scientifiche altri che condividono informazioni su materie umanistiche tecnologiche chi parla di economia di marketing chi parla di sport chi parla di erboristeria cioè veramente tutti tutti i settori e il procedimento che abbiamo adottato per creare la base di utenti soprattutto in italiano e nelle nuove lingue che abbiamo lanciato da poco è stata questa noi abbiamo identificato gli utenti italiani che già scrivevano su Quora in inglese e li abbiamo invitati ad utilizzare la versione beta la versione beta l'abbiamo lanciata più o meno a maggio quindi siamo stati in versione beta per più o meno 2-3 mesi e ogni utente iscritto alla versione beta poteva invitare 10 persone così mano a mano la community è cresciuta fino appunto arrivare al lancio ufficiale di cuore in italiano il 6 luglio 2017 i numeri stanno raddoppiando ogni giorno abbiamo sempre nuovi utenti gli utenti che scrivono le risposte molte volte le condividono anche sui social quindi c'è un forte passaparola quindi stiamo crescendo notevolmente non solo in Italia ma anche negli altri paesi e presto apriremo cuore anche ad altre nazioni sicuramente ecco questo è interessante la piattaforma è americana anche se poi magari il fondatore ha un nome italiano americano e naturalmente ha iniziato tutto in inglese dal 2016 però dicevi che avete cominciato ad aprire in altri in altri paesi le versioni localizzate scusami le versioni localizzate per altre lingue c'è prima lo spagnolo poi il francese poi il tedesco e infine anche l'italiano ti corrego perché abbiamo superato finalmente i tedeschi quindi prima l'italiano e poi il tedesco prima l'italiano e poi il tedesco prima l'italiano e poi il tedesco benissimo la domanda che ti volevo fare è esattamente la stessa cosa ha fatto scattare le priorità per queste lingue cioè come avete fatto questa scelta allora ti spiego dato che noi siamo focalizzati appunto sulla condivisione delle conoscenze nel mondo abbiamo pensato prima di tutto di rendere disponibile cuore in altre lingue perché ovviamente non tutti parlano l'inglese no quindi i primi sette anni abbiamo trascorsi a perfezionare la versione in inglese la qualità il sistema di moderazione poi quando ci siamo sentiti pronti quindi un anno fa abbiamo scelto prima di tutto lo spagnolo perché come già sai no è la seconda lingua più parlata al mondo avevamo un bacino d'utenza di persone spagnole che scrivevano su cuore in inglese che era vastissimo per cui ci siamo affacciati a questo mercato che comprendeva non solo la spagna ma anche l'america latina ovviamente poi dal di lì la scelta è stata più o meno random nel senso che abbiamo scelto le lingue che avessero più o meno la stessa struttura e che si avvicinassero culturalmente allo spagnolo e quindi dal di lì abbiamo appunto lanciato la Francia e subito dopo l'Italia e poi la Germania il motivo per cui abbiamo scelto di introdurre cuore in italiano cuore all'Italia è perché ovviamente l'Italia rientra tra i più importanti centri culturali al mondo se vogliamo il luogo di nascita della civiltà occidentale possiediamo un patrimonio artistico e storico unici e gli italiani valorizzano moltissimo appunto le conoscenze il sapere l'apprendimento e quindi diciamo ci siamo avvicinati all'Italia in maniera del tutto naturale. Certo poi già che abbiamo battuto i tedeschi io staffo già lo champagne purtroppo non i francesi ma pazienza tornando all'inizio della nostra chiacchierata parlavamo di qualità no? Dicevamo che voi avete un po' il pallino della qualità di quello che viene scritto e condiviso su cuore ecco come fate a garantire questa qualità perché moderare una mole enorme di contenuti non è facile? Certo noi abbiamo un sistema che è un mix tra tecnologia e persone nel senso che appunto ci avvaliamo della tecnologia ma anche di moderatori di persone che si assicurano che la nostra policy fondamentale che è quella che chiamiamo be nice and be respectful quindi si gentile e rispettoso verso la community gli utenti che scrivono ci assicuriamo che questa policy venga rispettata e inoltre diciamo invitiamo gli utenti ad utilizzare il nome reale per promuovere sicurezza ed educazione nei confronti di tutti nel senso che sei invitato ad utilizzare il tuo nome anziché che è un nome inventato quando appunto il tuo profilo soccora esatto sì anche perché hai il modo di tutelare il tuo profilo le risposte che scrivi le puoi cancellare e modificare in qualsiasi momento se ricevi dei commenti che ti stanno molestando li puoi bloccare puoi bloccare le persone a diciamo a non seguire più quello che tu scrivi quindi ti puoi tutelare ecco inoltre da utente puoi segnalare al nostro team le risposte e gli atteggiamenti che vanno contro la nostra policy quindi diciamo che gli utenti possono automoderarsi in questo senso quindi abbiamo la tecnologia abbiamo dei moderatori che leggono quotidianamente le risposte e abbiamo anche gli utenti che hanno questa possibilità di poter segnalare ciò che va contro la policy di cuora noi da parte nostra quello che facciamo è impegnarci a valorizzare le risposte di qualità rendendole più visibili le risposte troppo brevi o che non rispondono direttamente alla domanda ti dico vengono generalmente nascoste molte volte ricevono dei voti negativi quindi in automatico non vengono diciamo proposte tra le prime risposte su un argomento ed è questo che ci differenzia un po' dalle altre piattaforme cioè scoraggiamo le persone a dare moltissimi pareri brevi e non troppo significativi incoraggiamo a dare risposte complete, utili che siano appunto ricche di informazioni per la comunità è interessante quello che dici perché comunque c'è un'attenzione sicuramente al lato delle risposte ma l'attenzione scusa viene anche data al lato domanda perché a volte uno può fare anche delle domande volutamente provocatorie per provocare reazioni o volutamente stupide per essere sciocco assolutamente sì, ci sono tempi di domande e ovviamente anche le domande devono rispettare la policy di essere educati di non offendere nessuno, di non citare persone in maniera aggressiva e quindi insomma ci sono domande ironiche come tu dici che magari vogliono semplicemente scatenare una sorta di forum se vogliamo delle opinioni per capire qual è la corrente di pensiero se queste domande comunque rispettano la policy ovviamente vengono mantenute nella piattaforma no no è chiaro, è chiaro ascolta, stando sul campo delle domande al momento se ho fatto bene i compiti perché io ho studiato e ho provato a studiare l'unico modo ho provato a studiare, giuro che ho provato a studiare poi mi sono fatto anche aiutare a Giada che è la costa del programma perché lei è una ultra nerd che studia a fondo questa qui e devo dire la verità Giada mi ha spiegato perché io ho provato ma non ho capito che se uno fa una domanda io posso andare a guardare i log di tutti gli edit che riguardano la domanda aggiungendo barra log alla fine dell'url e scorrere la pagina fino alla fine per arrivare all'autore della domanda ora perché ti dico questo chi ascolta avrà capito che è una sorta di supercazzola quella che ho fatto per dire che c'è un lavoro da fare manuale per scoprire chi ha fatto la domanda esatto fatemi un complimento avete fatto un lavorone perché è una cosa non semplicissima da capire questo è un merito di Giada che è un segugio che se te la scateno contro tu non sai cosa può trovare però come mai l'autore in questione non viene visualizzato direttamente in testa a fianco alla domanda ti dico perché perché mi sembra un po' voglio essere un po' malizioso cioè io vedo dei comportamenti marzulliani per dirlo in positivo io scrivo una domanda ho già pronta la risposta di 5000 caratteri e pum la ricopio sotto per cui mi occupo una nicchia e comincio ti dico ho provato anch'io a fare queste cose per vedere cosa succedeva però non mi sembra che sia lo spirito di cuora questo sì no in realtà ti sbagli guarda Giorgio ti spiego per noi in realtà non è così importante risaltare chi scrive la domanda ma piuttosto chi risponde alle domande e soprattutto alle qualifiche e la credibilità per farlo non so in merito ti posso fare anche un esempio veloce un mese fa una mia collega americana si trovava a Milano aveva un giorno libero e niente ha deciso di andare a visitare il lago di Como e aveva solamente tra quattro ore disponibili quindi cosa ha fatto ha scritto una domanda su cuore in inglese chiedendo quali erano i posti da visitare in 4-5 ore a Como poi è partita per la sua escursione nel frattempo non ha ricevuto nessuna risposta quindi ha raccolto informazioni con i passanti all'ufficio del turismo si è fatta la sua escursione poi quando è tornata in hotel fresca appunto della sua esperienza e quello che ha fatto è stato scrivere una risposta alla sua domanda che ovviamente potrebbe essere utile in futuro per chi deciderà di visitare il lago di Como perché lei non ha ricevuto nessuna risposta la domanda era ancora così vuota e quindi noi sinceramente invitiamo gli utenti ad aggiungere domande di cui conoscono la risposta e poi li invitiamo anche a rispondere immediatamente a queste domande se sanno la risposta e inoltre c'è su Quora in italiano c'è l'account aziendale ufficiale di Quora dove noi riportiamo lì tutti i nostri principi le regole se vogliamo le linee guida per l'uso ottimale di Quora e c'è una politica che fa proprio riferimento a quello che mi chiedi cioè se hai sbagliato rispondere a una domanda che hai fatto tu stesso e appunto in questa politica viene fuori che non lo è assolutamente perché se conosci la risposta corretta a una domanda ti invitiamo a pubblicarla perché Quora appunto deve essere un po' concepito come se vogliamo un database cumulativo di conoscenza e quindi è importante arricchire la piattaforma di nuovi contenuti quindi non è sbagliato non è un atteggiamento sbagliato ho capito è molto chiaro quello che dici la cosa che mi colpisce sempre è che quello che forse non appare immediatamente chiaro a chi arriva su Quora perché vede un rispondificio di fatto c'è un posto dove ci sono tutte queste domande tutte queste risposte Ecco ma Quora non è solo un luogo in cui trovare domande e risposte acquisiti più strani ma è un vero e proprio strumento di marketing ti faccio un esempio banalissimo nella puntata in una delle puntate precedenti c'è un imprenditore che dice che per studiare le sue buyers personas le sue marketing personas per i suoi contenuti va su Quora e Reddit e guarda le domande che vengono fatte dagli utenti quindi lo si può usare proprio per conoscere meglio il proprio target per trovare l'ispirazione su nuovi contenuti eccetera ci puoi raccontare qualche case history interessante da questo punto di vista sì sì assolutamente ho degli esempi magari più su Quora in inglese che su Quora in italiano perché come ben sai l'abbiamo lanciato un po' con l'Italia innanzitutto ti dico ovviamente su Quora c'è chi vuole semplicemente condividere la propria competenza e le proprie conoscenze e altri che come dici tu lo usano come uno strumento per accrescere la propria reputazione in un determinato settore e magari promuovere appunto il proprio brand il proprio marchio le risposte su Quora sono ovviamente un ottimo strumento per accrescere la visibilità e l'esempio che ti posso fare è quello di IBM IBM Security loro cosa hanno fatto hanno creato un profilo spontaneamente non li abbiamo invitati noi hanno creato il loro profilo e hanno iniziato a scrivere su Quora dopo noi quando ci siamo resi conto che erano sulla piattaforma li abbiamo contattati abbiamo un attimo pensato insieme a come si poteva collaborare e siamo arrivati alla conclusione che potevamo aiutarli indirizzandogli raccogliendo delle domande che avessero a che fare con la security con la cyber security con web application security e quindi poi loro una volta che hanno iniziato a ricevere queste domande hanno messo lì degli esperti che hanno cominciato a dare delle risposte appunto valide per questo campo e queste risposte sono poi successivamente state pubblicate su Lafpost e su Forbes quindi da quanto erano valide credibili e uniche nel loro genere sono state poi pubblicate ci hanno contattati questi editori e inoltre siccome queste risposte hanno ricevuto molti voti positivi sono state condivise sui social e hanno avuto l'opportunità di essere di comparire nei nostri assunti email e nel nostro feed più di frequente un'altra cosa importante Giorgio è che le domande ad esempio in questo caso alle quali il team di IBM ha risposto fanno parte di un argomento in particolare che è quello della computer security che è un argomento che è seguito da più di 700.000 persone 700.000 followers quindi le loro risposte inerenti a quell'argomento saranno viste esattamente da questo numero di persone quindi se applichi diciamo se alla domanda diciamo applichi l'argomento esatto e corretto hai molte più probabilità di essere eletto cioè oppure se tu crei quell'argomento e lo riempi di domande inerenti attiri anche persone interessate ecco proprio questo mi fa arrivare una domanda che diciamo io vengo dal mondo delle vendite dal marketing e quando usiamo Quora per fare personal branding o per generare brand awareness quel che l'è corriiamo il rischio di essere sales per non dire diciamo di tutti i link affiliate che posso disseminare delle mie risposte eccetera ecco ci dai qualche consiglio per evitare questo tipo di scivoloni perché quella non è a conoscenza è semplicemente uno show off che poi è controproducente perché chi guarda il nostro profilo vede il nostro nome e cognome e percepisce la nostra disponibilità e la nostra capacità di rispondere quindi come possiamo rimanere utili ecco anche a noi stessi rispondendo le domande sì dunque innanzitutto noi definiamo una risposta valida soprattutto quando risponde alla domanda che è stata posta cioè le risposte utili sono quelle che non vanno ovviamente fuori tema e la risposta deve essere facile è chiara da leggere per chiunque magari ti sto dicendo le banalità però per molti non lo sono nel senso è importante curare la forma la grammatica la formatazione la risposta deve convincere il lettore della sua affidabilità quindi per non suonare troppo sensi come dici tu sicuramente è importante che vi sia dietro una tough leadership come dicono qua in America nel senso che bisogna proporsi davvero sulla piattaforma come l'esperto in un particolare campo che però ha effettuato tutto un processo di ricerca professionale e che dà un parere un po' distaccato e ha una sorta un'altorevolezza quando risponde certo ti faccio un esempio se vuoi se tu vuoi rispondere a una domanda del tipo quali sono i migliori software per gestire i processi di vendita so che ti occupavi di CRM quindi mi viene questo esempio se io mi rispondo limitandomi a consigliare il mio prodotto e lì aggiungo una spilta di links e semplicemente consiglio il mio prodotto questa risposta non è valida nel senso sicuramente riceverà voti negativi sarà una risposta breve e non è valida cioè non è utile per il pubblico se tu invece nella risposta spieghi le varie opzioni di software esistenti a seconda delle esigenze perché scegliere uno piuttosto che un altro la risposta viene sicuramente apprezzata di più è utile e quindi riceverà molta più visibilità e distribuzione quindi è importante diciamo non focalizzarsi solo sul proprio prodotto ma dare delle spiegazioni valide proprio sul tema sul campo certo hai ragione anche perché poi dopo deve essere diciamo è a nostro favore se la risposta prende tanti like se è una risposta apprezzata se è una risposta completa eccetera c'è modo e modo e quindi c'è modo c'è un modo anche elegante di farsi pubblicità dicendo il vero e dando risposte complete senti la versione italiana di cuore è arrivata l'abbiamo detto da pochissimo la beta è stata lanciata a maggio quindi siamo ancora proprio neanche un anno è passato è pochissimo poi non c'è neanche il blog parte quando arriverà il blog è brevissimo ah sì perché immagino che non sia una feature così difficile da implementare quando è già implementata altrove ecco c'è qualche italiano che sta usando particolarmente bene la piattaforma e che ci puoi consigliare di seguire per capire qual è un uso giusto di cuora sì assolutamente appunto ci sono già diverse persone che utilizzano cuora da quando abbiamo lanciato la versione beta altre che la utilizzano da un paio di mesi ma che hanno già condiviso molte risposte utili interessanti che stanno appunto scrivendo molto bene ti cito Nicola Catena che è un ragazzo che ha appena fondato una start up è un economista e ha scritto diverse risposte molto valide ad esempio su come creare una start up o risposte su economia e finanza un altro è Tommaso Tosi che lui gestisce una comunità di esperti in filosofia e scienza e anche lui ha scritto risposte molto molto valide Claudia Boscolo che è una docente lei ha risposto su temi di istruzione sul sistema scolastico italiano fra gli esperti per dire abbiamo Francesca Tibaldi che è una triatleta professionista che ha risposto a una domanda su come è meglio affrontare una gara di Ironman ad esempio te ne cito altri due ad esempio Leonardo Turchie è un ragazzo specializzato in intelligenza artificiale e ha risposto a diverse domande su robotica e guida autonoma e c'è anche Massimo Nava che è entrato nella piattaforma da penso un paio di mesi non di più Winart si fa chiamare Artlandis ed è un docente che è esperto in social media marketing growth hacking e ha scritto diverse risposte molto molto valide che abbiamo anche condiviso sui nostri social sì comunque metto tutti i link nello show note così almeno chi vuole va sul sito clicca e non ha problemi a ricordarsi i nomi senza interrompere la guida o il footing la corsa eccetera bene Valentina io ti ringrazio tantissimo perché è uno strumento che ho cominciato a usare e apprezzare e ti dico la verità anche amare perché era un po' che guardavo la versione inglese era interessante andare a vedere le domande e poi dicevo sì ma queste domande qui come le farebbero i miei connazionali ecco grazie perché adesso finalmente devo avere solo un po' di pazienza che la piattaforma si popoli ma cominciano già a esserci discussioni veramente veramente interessanti interessanti dove ti possono trovare gli ascoltatori di Merita Business Podcast se hanno voglia di fare una domanda io direi su cuore esattamente siamo lì vi aspettiamo scrivete tutte le domande i quesiti che avete non c'è limite a niente quindi ringrazio te Giorgio per questa opportunità di far conoscere Quora al pubblico italiano e a chi ti segue e sì quindi siamo lì su Quora e se avete io mi occupo di gestire le relazioni con gli autori mi occupo di marketing quindi se avete qualsiasi dubbio o domanda mi potete scrivere direttamente su Quora cercando il mio profilo grazie Valentina di essere stata con noi grazie davvero buona giornata ciao 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 bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di Quora grazie per essere stati con me con Valentina in questo episodio ricco davvero di spunti utili se avete voglia di farci sapere la vostra opinione fare una domanda sull'argomento di oggi oppure semplicemente un saluto veloce potete farlo l'indirizzo a cui andare è merita.biz barra 1 2 1 episodio 121 tutti gli appunti e i link citati da Valentina durante lo show li trovate già lì che vi aspettano come sempre se invece avete voglia di entrare a far parte del gruppo chiuso segreto ovviamente segretissimo quello che non si può rivelare su facebook basta cercare nel motore di ricerca della creatura di Zuckerberg merita business podcast esce sicuramente tra i primissimi risultati questo gruppo chiedere di entrare vi approviamo quasi subito e poi potete stare con noi a discutere di marketing di business di azienda tutto nell'ottica chiaramente digitale bene è davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa ci trovi su iTunes Stitcher e Spreaker www.merita.biz e spreaker e spreaker e spreaker